La troma, dai! E' mezzo in ruolo, non c'è caccia! E' più in ruolo! Dai, che fai? Dai, che fai? Dai, che stai sgagnando con i nacchi! Nacchi che piglia un centamela, eh! Non possiamo accettare di fare la fame per permettere a pochi di arricchirsi ancora di più! La ricca è la vita! E' si canta più! Su, su, su! Crediamo che il problema della crisi energetica, della speculazione sull'energia vada risolto collettivamente, scendendo in piazza, imponendosi... Si metto su! Con il tuo vita! Non si canta più! Adesso anche la crisi energetica sta imponendo l'ennesimo stop, non si può più produrre nelle campagne e questo è un problema che a cascata accade su tutti i siciliani che sono quelli che si ritrovano poi a comprare i prodotti. Crediamo che la soluzione sia scendere in piazza tutti insieme in manifestazioni trasversali e fare sentire la nostra voce. Grazie! 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 Grazie!